E in questa occasione rinnovo a tutti l'invito a conservare sempre viva e attuale la memoria del proprio Battesimo. Lì ci sono le radici della nostra vita in Dio, le radici della nostra vita eterna, che Gesù ci ha donato con la sua incarnazione, passione, morte, resurrezione. Nel Battesimo ci sono le radici e non dimenticare mai la data del nostro Battesimo.